Abbiamo deciso di concentrare gli sforzi in una doppia inaugurazione, due progetti di mostra a cui tenevamo particolarmente, che devo dire la verità, si sposano alla perfezione, al piano ammezzato di musici civici dove siamo ora, questa straordinaria collezione di opere grafiche di Miró, un artista che non ha bisogno di presentazioni, un grandissimo del Novecento, uno studio sul colore, sulla forma, sull'astratismo incredibile, che gioca con questo allestimento ricreato nei musei dove ogni sala è diversa, ogni sala è stata ridipinta per giocare con il colore dominante delle opere, delle varie stagioni della vita e della produzione, è veramente un viaggio che merita fare, non solo la scoperta dell'artista, ma in un'esperienza vera e propria immersiva. Così come al Piero Terra, ospitiamo Michael Bardeggia, che è un giovane, giovanissimo, anzi illustratore pesarese, che però ha ormai una visibilità nazionale e internazionale e ha fatto un lavoro incredibile di incisioni e di sue opere illustrative, anche particolarmente evocative e oniriche, legate a Dante, ma non solo, su gestioni su temi antropomorfi, zoomorfi, insomma un bellissimo viaggio per immagini e crediamo che entrambe le mostre, entrambe le proposte, che sono distanziate di pochi metri l'uno dall'altro, oltre alla possibilità di visitare la collezione permanente dei musei civici, possano essere una bellissima attrazione, sia per i turisti, ma anche per i pesaresi che ritornano alle mostre, lo ritornano con una botta di colore di cui forse avevamo bisogno, e anche per questo crediamo che possa essere molto interessante e molto appropriato anche per la didattica, che sta tornando quindi la possibilità di coinvolgere i bambini nei corsi, nelle attività collegate per entrare dentro lo spirito delle mostre degli artisti e far diventare si stessi protagonisti del processo creativo. La mostra, in viaggio con Enrica, ha 30 illustrazioni originali, tratte dal libro Dante e il mio babbo, pubblicato con Arche Edizioni di Milano, scritto da Chiara Lossani, con cui ho un bellissimo rapporto di amicizia. All'interno delle illustrazioni si racconta le vicende di una bambina che si chiama Enrica, che si muove attraverso il racconto della figlia di Dante, la vera figlia di Dante, che è suor Beatrice, e quindi nasce questo rapporto di amore quasi, di amicizia, tra la bambina e la suor Beatrice, che si muoveranno attraverso le vicende, la narrazione della Divina Commedia. Le 30 illustrazioni sono tutte realizzate a mano, con l'utilizzo del segno, della penna, dell'acrilico e dei pantoni. All'interno delle illustrazioni sono presenti animali, che sta a significare appunto questo rapporto che è presente in tutte le illustrazioni tra uomo e natura, questo rapporto non conflittuale, ma quasi anche lì di amicizia, comunque di unione, molto importante, che quindi sarà presente in ogni tavola, in ogni illustrazione. Ogni animale, come ho detto precedentemente, ha in sé delle emozioni, e quindi ogni animale ha una sua simbologia, entra a far parte di una metafora all'interno del libro, dell'albo illustrato. All'interno della mostra sono presenti anche dei forex e degli adesivi che permetteranno a chi verrà a visitarla di entrare, di interagire all'interno della mostra come se fosse all'interno del libro stesso. Quindi all'interno dei forex si potranno fare anche delle foto, interagire anche con gli animali stessi, i leoni, i leopardi, i lupe. Quindi ci si muoverà all'interno della mostra, delle illustrazioni, con lo spirito un po' da bambino, che non dobbiamo mai perdere.